L'Italia è un paese di scrittori. Oh, da noi non legge niente nessuno, ma tutti hanno un libro nel cassetto da scrivere. Allora, perché non pensare ad un business in questo settore, visto che poi possiamo pubblicare facilmente tutto ciò che vogliamo con il self-publishing? Beh, perché probabilmente non conviene. Quello che ho capito è che sarà anche romantico, ma pubblicare un libro in autonomia non conviene. Fare il self-publisher non conviene. Quello che conviene è avere un business nel self-publishing. Benvenuti su Merita, il podcast per chi fa impresa. Io sono Giorgio Minguzzi e oggi parleremo di self-publishing. In una delle più recenti puntate ho analizzato 30 modalità differenti di guadagnare, arrotondare, fare soldi e magari prosperare, grazie alle opportunità offerteci dal web. Fra queste opportunità c'era il self-publishing. Ora, quella puntata nello specifico è andata benissimo. Ha fatto numeri incredibili e ho deciso di prendere le due o tre attività più interessanti, più promettenti, che mi hanno incuriosito di più e magari dedicare a loro una puntata. Partiamo oggi quindi con il self-publishing. Perché mi ha così interessato? Beh, sicuramente per la semplicità del processo. Non parlo di facilità di fare soldi. Parlo del fatto che è un processo semplice da capire. Poi c'è un'opportunità che riguarda l'audio, perché non produci solo libri di carta e ebook, ma lo fai anche audiolibri e tutto quello che audio a un podcaster interessa spontaneamente. E infine c'è un lucro interessante. Ho visto dashboard di persone che fanno da 5-6 mesi questa attività e sono rimasto sbalordito. Poi ve le metto nelle note dell'episodio sul sito di Merita e le potete vedere anche voi. Ma la cosa che forse mi ha più interessato e mi ha più stuzzicato di questa attività di self-publishing è che sia un'attività prettamente imprenditoriale. Mi spiego meglio. L'attività non è difficile. Non comporta competenze particolari come possono essere altre attività legate al web. Ma è sicuramente un ambito in cui bisogna avere una visione imprenditoriale. Mi correggo. Bisogna almeno sapere l'inglese. Ma oggi dove vai senza l'inglese? Quindi non la reputo una skill così impossibile da avere. Devi sapere l'inglese per fare questo business a un livello decente. Non devi essere madrelingua ma decente per poter interagire con i fornitori. Bene. Ma in più questa attività ha la grande necessità di avere una visione imprenditoriale. Devi gestire i soldi, capire cosa vuole la gente, trovare fornitori affidabili, lavorare con i fornitori. Quindi in pratica è quasi come avere dei dipendenti. Provare il frutto del tuo lavoro, amministrare gli incassi, avere a che fare con la parte burocratica, avere a che fare con un partner di business che fa le bizze ogni tanto. È un'attività imprenditoriale. Di self-publishing ho avuto una piccola esperienza per un progetto minore. Era un test, ve lo posso anche raccontare brevemente, era un test legato a un account Instagram. Account Instagram del mondo del turismo. Quindi era un account tipico di una destination. In cui l'account era 100% automatizzato. Il test era fare un account non toccato dall'uomo ma solo dal bot. E a quel punto lì c'era la voglia di capire se si poteva monetizzare facendo account così, vendendo magliette e vendendo un libro. Per cui io ho pubblicato un ebook. Per un certo periodo l'account ha fatto anche il suo dovere, ho guadagnato abbastanza bene. Comunque era interessante come esperimento, era positivo. Poi sapete com'è finita con i bot e quindi l'esperimento è morto lì. Mi è rimasta la curiosità di capire a fondo questa dinamica di business del self-publishing e così ho chiesto un po' in giro agli ascoltatori di merita, ai meritevoli, alla community dei meritevoli chi potesse darmi una mano a comprendere meglio. E tutti, ripeto tutti, quelli che hanno saputo rispondere mi hanno parlato di due ragazzi, i T-Y-I-E, cioè un brand che rappresenta, un brand dal nome impronunciabile, che rappresenta due giovani imprenditori, Alberto Sironi e Stefano Della Torre, che ne sanno un pacco, proprio tantissimo, su questo aspetto. Loro hanno deciso di insegnare a scalare il business del self-publishing a chi ha voglia di cimentarsi con questa sfida. Quando ho cominciato a vedere cosa facevano loro online, chi erano, sono entrato nella loro community e devo dire che la cosa mi ha impressionato tantissimo. È una community attivissima, seguitissima, le persone interagiscono, si aiutano tra loro, le risposte sono immediate, tant'è che a me veniva più voglia di fare una puntata sul community management piuttosto che sul Kindle Publishing. Però ho capito che guardando il numero degli ascolti di quella puntata e le domande che ho ricevuto, agli ascoltatori di merita interessa avere degli highlight su questo tipo di opportunità oggi e quindi andiamo a vedere con loro a fondo l'opportunità di business che c'è dietro il self-publishing. Eccoli quindi ai nostri microfoni. Alberto, Stefano, benvenuti su Merita. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Grazie, grazie davvero per essere qui. Voi vi occupate di pubblicazione sia su Kindle che su Audible, ma fare business con Amazon è stata la vostra prima scelta oppure siete arrivati a questa cosa qui attraverso altri tentativi che vi hanno portato poi alla fine in questo business? Ma a dire la verità, nel mondo del digitale è stata la nostra prima scelta perché all'epoca, quindi sto parlando di circa 3-4 anni fa, una cosa del genere, noi eravamo ancora studenti universitari, quindi andavamo all'università, facevamo nel weekend i vari lavorettini, io facevo il buttafuori all'epoca, Alberto, il mio socio... Io lavoravo al mondo convenienza. Mondo convenienza, ecco. Quindi facevamo quello che tutti i normali studenti facevano all'epoca, si studiava, nel weekend si lavorava. Poi sai, giri un po' su Facebook, YouTube vari, arrivano le varie sponsorizzate, quindi le pubblicità, e abbiamo iniziato a vedere che con Amazon, oltre che a comprarsi vari oggetti, le varie cose, potevi anche fare business, e uno di questi business che ci era arrivato era il self-publishing, che appunto il self-publishing, poi magari spiegheremo un attimo meglio che cos'è, e da lì abbiamo deciso di intraprendere questo business, quindi un business che appariva fin dall'inizio, semplice, semplice, non facile, quindi c'erano pochi passaggi da fare per poter riuscire a portare a casa qualcosa. E allora da lì abbiamo deciso, ok, dai, affidiamoci al corso che c'era all'epoca, che abbiamo studiato anche noi, e abbiamo iniziato a fare self-publishing appunto. Ah, questa è una... quindi avete cominciato, perché dai, era una cosa abbastanza semplice, ecco, ma alla fine io mi aspetto che tanti ascoltatori abbiano visto il vostro nome, vi conoscono perché avete un grande seguito e siano venuti ad ascoltare, ma ce ne sono sicuramente altre tanti che non sanno di che cosa stiamo parlando, quindi riuscite a spiegarci un attimo in che cosa consiste questa possibilità con Amazon di profitto, come funziona esattamente? Certo, allora, consiste nel pubblicare libri in formato Kindle, cartaceo e audiolibro attraverso piattaforme come Amazon e Audible, Audible sempre di proprietà di Amazon, e sostanzialmente quello che facciamo noi, nello specifico, non andremo a scrivere libri, non andremo a narrare libri, ma andremo a coordinare tutti i processi che ci sono dietro, quindi cerchiamo un argomento di lettura che può interessare alle persone, trattiamo soltanto di non fiction, quindi guide, manuali, cose del genere, poi andiamo a commissionare al ghostwriter, la scrittura del libro, il graphic designer, le copertine, il narratore, la narrazione del libro e così via, andiamo ad assemblare il prodotto, lo pubblichiamo su Amazon e Audible, e nel momento in cui il nostro libro fa una vendita, noi prendiamo una commissione su appunto ogni vendita che il nostro libro farà per il resto della nostra vita. Chiaro, chiaro, quindi sia in tutti e tre i formati, l'ebook, il cartaceo e anche il nuovissimo audiolibro, nuovissimo, c'è da un sacco, però... Ultimamente sta riscuotendo un grande successo, soprattutto questo formato. Sfingetato, sì, sì. Eh, certo, certo, c'è un immagino, poi sull'audio stanno puntando un po' tutti, e quindi di conseguenza tra podcast, audiolibri, eccetera, restano pochi spazi colonizzabili della nostra giornata, quello di andare in macchina... La gente ha poco tempo, quindi nel momento in cui può fare due cose contemporaneamente, è una cosa, è un ottimo, perché anche io uso gli audiolibri, sinceramente, ascolto l'audiolibro quando magari sto, non lo so, lavando i piatti, facendo da mangiare, guidando, ti permette di fare due cose contemporaneamente, riesci a leggere, tra virgolette, un libro, senza metterti lì le ore, e magari destinare questo tempo ad altre cose. Certo, ho notato che ormai grazie a internet c'è veramente tantissime possibilità di guadagnare oggi, arrotondare lo stipendio, o farlo anche diventare una vera professione, il problema è che non è mai tanto chiaro quali sono i requisiti di accesso, perché tu prima hai detto una cosa molto giusta, hai detto semplice, ma non è facile da fare, semplice sì, ma non facile, ecco, quali sono i requisiti per fare questo lavoro? Bisogna sapere l'inglese? Bisogna conoscere qualcosa? Visto che hai parlato dell'inglese, bisogna sapere l'inglese, in quanto tutto ciò che facciamo, quindi il nostro self-publishing, si sviluppa su delle piattaforme americane, quindi appunto Amazon, oppure anche semplicemente Fiverr o Upwork, che sono dei siti, dai quali andiamo a contattare i freelancer che lavoreranno per noi, sono tutte persone che parlano e scrivono in inglese. Ora, il livello di inglese necessario a fare self-publishing può essere anche veramente basso, quindi per dare una gradatore, cos'è, un A2? Sì, direi un A2. Un livello delle medie, scuole medie per intenderci. Quindi è giusto saper comunicare con queste persone, spiegargli come vogliamo una cover, quindi una copertina del libro, di cosa deve parlare il libro, eccetera. Ricordiamoci che spesso non avremo a che fare con persone madrelingua, quindi proprio per questo il nostro inglese non per forza deve essere perfetto, ma va a un minimo saputo. Per quanto riguarda invece i requisiti per fare questo business, come accennavo all'inizio appunto dell'intervista, noi studiavamo all'università e abbiamo iniziato a fare questo business, ma non studiavamo marketing o cose del genere. Io studiavo lingue e letterature straniere, e il mio socio Alberto studiava anche lui lingue, quindi come potrai capire benissimo, marketing zero, sapevamo soltanto un minimo l'inglese, vabbè un minimo, comunque abbastanza bene l'inglese. Per cui i requisiti, io direi che non ci sono dei propri requisiti tecnici, potete anche arrivare a fare self-publishing essendo cassieri, panettieri, autisti, qualsiasi cosa, l'unica cosa dovete avere voglia di lavorare, voglia di studiare e mettersi in gioco, perché è completamente un altro business. Se voi avete già un business fisico, quindi se avete già una vostra attività, anche imprenditoriale, comunque è uno switch che dovete fare, cioè andare a lavorare online con il computer. Secondo me è questa l'unica cosa, il requisito quindi è aver voglia di lavorare e mettersi in gioco. Comunque è un requisito, diciamo, una volta che si sa l'inglese è abbastanza facile, con un po' di impegno, capire i meccanismi e cominciare a entrarci. La domanda però che mi faccio ora è che noi un po' di tempo fa abbiamo pubblicato una puntata qui su Merita con 30 modalità di guadagnare e molte di queste non sono sostenibili nel tempo. Cioè il self-publishing è un'attività sostenibile nel tempo, è un'attività che dura. La persona può pensare di farlo da professionista e fare solo quello, lasciare il suo lavoro e vivere grazie a questa attività? Allora, la risposta a questa domanda è un grande dipende. Allora, ci sono due tipi di nicchie di lettura, chiamiamole così, nel quale andiamo a pubblicare. La prima è keyword evergreen, cioè argomenti di lettura dove si vorrà sempre leggere di quell'argomento. Altri invece sono dei trend, come possono essere dei vari tipi di dieta che un anno si leggono, l'altro anno non si leggono più. Quindi nel momento in cui noi pubblichiamo tanti libri evergreen andiamo a creare una certa stabilità nel business così che i nostri libri vendano anche a distanza di mesi e anni. Ora, andare a lasciare il proprio lavoro e vivere grazie al self-publishing un attimo. Noi consigliamo sempre ai nostri studenti di iniziare con questa attività perché appunto è relativamente semplice da iniziare, non servono grandi capitali, poi magari ne parleremo. e possiamo avere degli ottimi ritorni. Nel momento in cui però abbiamo dei buoni ritorni consigliamo sempre di reinvestire in altre cose in modo che nel momento in cui si vuole lasciare il proprio lavoro è meglio sempre avere più fonti di entrata e non avere soltanto una fonte di entrata perché può succedere qualsiasi cosa. Comunque stiamo lavorando con una piattaforma Amazon che può fare quello che vuole sostanzialmente quindi noi consigliamo sempre di diversificare nel momento in cui abbiamo abbastanza fonti entrate possiamo pensare di lasciare il nostro lavoro. Sì, almeno io l'ho già visto accadere all'inizio nell'affiliate con Amazon c'era tantissimo margine poi questo margine è stato decurtato sempre di più quindi bisogna veramente essere un po' previdenti però ci si può vivere bene ecco. Sì, sì, alla grande. Tanta gente anche del nostro corso comunque adesso vive di publishing perché appunto come diceva Alberto è una cosa che sicuramente è molto profittevole cioè ti può dare effettivamente entrate molto grandi se uno si applica bene il problema è la continuità se stacchi per dire due o tre mesi perché ti succede qualsiasi cosa ovviamente le entrate scendono e non è come avere un lavoro dipendente per quello bisogna pensarci sempre bene prima. Certo. Però le entrate ovviamente possono essere grandi come un qualsiasi altro tipo di business imprenditoriale. Ok, questo è un aspetto dove magari dopo ci rientriamo questo aspetto dell'imprenditorialità di questo business perché secondo me è una chiave di lettura molto importante. Mi domandavo però quanto lavoro c'è da fare per arrivare a guadagnare e qual è il minimo investimento perché con Amazon guardi l'FBA così 5-10 mila euro te li devi subito giocare perché sennò non hai il volume necessario per poter fare l'attività. quanto spendo con i fornitori per farmi fare tutto questo lavoro e qual è la parte diciamo che devo spendere in advertising che costi ci sono? Allora io direi per ogni prodotto te la stavi già ridendo eh sì per ogni prodotto siamo intorno ai 5-600 dollari poi è abbastanza variabile però non non andiamo mai oltre ai 600 dollari quindi per iniziare potenzialmente possiamo iniziare anche con 600 dollari chiaramente sono eh dei budget totalmente diversi rispetto ad Amazon FBA però dobbiamo contare che qui non abbiamo eh spese di per quanto riguarda cioè non stiamo creando un un prodotto un prodotto lo dobbiamo importare dalla Cina non dobbiamo pagare le tasse doganali tutte queste cose dobbiamo pagare le spedizioni è una cosa sono prodotti digitali quindi possiamo giocare molto di più su sui vari margini ora per quanto riguarda quanto tempo dobbiamo investire io direi che due ore al giorno sono più che sufficienti ma oltre che più che sufficienti cioè dopo quelle due ore al giorno eh non si sa più cosa fare nel senso che una volta che io commissiono ho trovato la la nicchia di lettura profittevole in cui pubblicare eh ho commissionato il libro al Ghostwriter ho commissionato la copertina al graphic designer io devo per forza stare aspettare aspettare che le persone mi consegnino quello che ho ordinato quindi non posso materialmente fare altro quindi direi che in media due ore al giorno sono più che sufficienti e si può partire con cinque seicento dollari chiaramente eh più budget si è a disposizione meglio è però si può partire anche con cifre molto basse ecco ma noi stessi eravamo partiti con cifre molto basse sì noi siamo partiti con mille mille cinquecento euro e siamo riusciti comunque a far bene da subito pensare che lavoravamo eh lavoravamo nella nella biblioteca di paese quindi proprio partiti fondo e poi niente beh ottimo ottimo questo è molto di conforto perché secondo me a tanti perché tanti dicono ok è vero che ci sono tutti questi lavori digitali però quando vado a vedere dopo scava scava l'investimento è notevole invece in questo caso mi sembra che uno possa partire veramente con con poco anche perché difficilmente se uno non ha cinquecento euro o sei cento euro da poter investire anche la la possibilità e il mindset per andare a fare delle cose così perché se non ho cinquecento euro probabilmente non sto mangiando ecco se non si ha cinquecento euro non è questo il momento per iniziare una propria attività perché qualsiasi attività richiede un minimo di investimento e cinquecento euro per un'attività sono proprio il bare minimum cioè sotto quello non so cosa si possa fare sinceramente ecco una volta che li ho investiti ammesso che io abbia lavorato bene in quanto tempo li rio indietro? allora anche qui c'è un grande dipende nel senso che dipende dalla persona come applica tutti i vari processi però diciamo che abbiamo una media di tre mesi sì circa tre mesi tre mesi proprio soldi in banca parliamo ok questa è la media poi ovviamente cambia da persona cambia da persona a persona c'è gente che appunto come ne parlavamo già con te in precedenza compra il corso o comunque inizia a studiare un po' e poi lascia lì tutto senza neanche applicare quindi è un gigantesco dipende questo chiaro 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 e qual è la parte più delicata di questo business? allora la parte più delicata probabilmente non è una parte non è un tecnicismo quindi una parte tecnica ma è lo switch mentale che tanti sono costretti a fare se vogliono intraprendere il self publishing o un qualsiasi tipo di business online cioè passare da essere mentalità offline quindi mentalità fuori dal guadagno online magari da dipendente a diventare imprenditori online quindi crearsi una propria routine lavorare online sai che se non apri il computer quel giorno non tra virgolette non lavori quindi non guadagni non costruisci nulla quindi secondo me la parte più complicata è proprio questo cioè ricodificare la propria mente e inoltre io direi anche il problem solving cioè nel momento in cui noi abbiamo la nostra attività nasceranno per forza un sacco di problemi con il self publishing come con qualsiasi altro business cioè c'è sempre qualcosa che non va bene e non succede mai di dire ah cavolo per questa attività mi è andata tutto come avevo pianificato ecco il modo in cui noi affrontiamo questi problemi e risolviamo questi problemi direi che la cosa un po' più complicata fa parte appunto della mentalità che una persona si deve costruire nel momento in cui si affaccia al self publishing come a qualsiasi altro business offline online o qualsiasi altra cosa ecco certo mi rendo conto che i problemi ci siano un po' in ogni attività e quindi questo cambiamento di mindset è importante perché nel momento in cui cominci a fare l'artigiano ti perdi perché se fai tutto tu ti perdi devi delegarlo eccetera ecco approfondiamo un tema che mi sta particolarmente a cuore ed è una grande curiosità che ho rispetto a questo business io ho avuto a che fare per lavoro tutt'altro genere con indiani anche indiani diciamo lato sviluppo così ed è stato un disastro un disastro qui in pratica io molte volte assumo ingaggio dei ghostwriter da paesi del terzo mondo e non ho idea io non ho veramente idea io adesso di che tipo di qualità di prodotto possono darmi ve lo chiedo perché c'è anche un tema etico io faccio un libro lo faccio su come funziona la keto diet poi magari mi va in mano a qualche uno che applica delle stupidaggini che ci sono scritte lì e si fa del male ecco come controllate la qualità dei fornitori allora i fornitori sono anche questi un punto di domanda nel senso che possiamo trovare degli ottimi ghostwriter come possiamo trovare dei ghostwriter non tanto buoni c'entra anche tanto quanto decidiamo noi di investire appunto nei ghostwriter nella scrittura del libro possiamo spendere poco 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 ma chiaramente la qualità sarà bassa come spendere un po' di più e avere un libro decente in realtà scrivere un libro in non fiction quindi un manuale piuttosto che una guida non è molto complicato ed è un lavoro di ok prendo vado a informarmi online piuttosto che leggendo libri piuttosto che in cui ci si possa informare e comunque su google c'è tutto e poi un lavoro di riscrittura piuttosto che di formattazione e tutte queste cose e quindi il tema il tema etico chiaramente è sempre presente lì spetta da persona in persona decidere cosa voler pubblicare e cosa no noi ad esempio non abbiamo mai pubblicato libri sulla medicina quindi che parlassero non so di cure per alcune medicine piuttosto che diete particolari molto specifiche e abbiamo studenti che non vogliono pubblicare negli argomenti più disparati per una loro etica lì chiaramente spetta alla persona per quanto riguarda la qualità si può arrivare ad avere un'ottima qualità anche da questi ghostwriter anche se non sono madrelingua anche se noi consigliamo di appunto andare a cercare scrittori madrelingua e si può avere una buona qualità con una qualità un po' più bassa per quanto riguarda invece il discorso plagio piuttosto che non plagio noi abbiamo nel nostro corso proprio un capitolo dove spieghiamo come controllare come fare un check sulla qualità del manoscritto che ci viene consegnato per vedere che sia tutto in ordine quindi quella è una cosa che una cosa in più ecco che forniamo sì poi diciamoci la verità adesso noi italiani abbiamo un po' la fissa dell'ultra qualità perché abbiamo questo come mentalità nostra no però in realtà se uno guarda su Amazon è pieno di cinesate quindi cioè non è non è che lì su Amazon c'è il massimo della qualità e c'è solo Louis Vuittone ecco per carità assolutamente ovviamente quindi poi alla fine basta basta mantenersi un minimo moralmente non abbietti ecco e poi alla fine certo anche questa è una delle caratteristiche che bisogna avere se uno deve fare self publishing ma io direi un qualsiasi tipo di business imprenditoriale certo cioè la continua ricerca della perfezione va bene fino a un certo punto perché se poi per avere la cosa perfetta non applichi scusate è certo e casca tutto quindi no assolutamente ovviamente una volta si diceva l'ottimo è nemico del bene perché poi alla fine tu non fai mai niente aspettando la perfezione è più una scusa più una scusa no non lo pubblico ancora perché non è perfetto non è come vorrei non faccio ancora questa cosa perché mi sento che posso ancora migliorarla poi lo usiamo un po' come scusa per non fare niente quindi sì certo io ho presente che voi avete realizzato un corso e beh dopo magari ne parliamo un attimo e sta vendendo molto poi ho dato un'occhiata alla vostra community e vedo che siete iper iper presenti quindi siete cioè la community è assolutamente attiva e questo sicuramente è un bellissimo segnale ecco è un segnale di gente che si sta impegnando ma che riesce a far impegnare anche le persone che sono lì la domanda è mi chiedo quanto possa mediamente guadagnare uno dei vostri studenti perché so che se lo stanno chiedendo quelli che ascoltano quindi io mi faccio un po' da avvocato loro e a parte quelli che comprano il corso e non lo guardano perché è pieno secondo me di gente che compra le cose e poi non lo fa diciamo che è facile concentrarsi sui fuori classe voi avete dei fuori classe che fanno vedere delle dashboard nel gruppo che sono da paura che magari con un loro mese prendono o due mesi prendono tutto lo stipendio di tanti freelance del digitale quindi mi verrebbe da dire caspita se poi prendo i fuori classe dopo quando arrivo io mi deprimo ecco qual è il guadagno netto mensile più o meno medio dei vostri dei vostri studenti allora per rispondere direttamente alla tua domanda il guadagno netto mensile medio dei nostri studenti del mese scorso è stato poco più di 6.000 dollari medio e del mese ancora prima sui 7.000 questo mese sarà ancora superiore non abbiamo ancora fatto il calcolo ma lo pubblicheremo come possono trovare chi ci sta seguendo tutti i guadagni medi e i risultati dei nostri studenti sulla pagina facebook quindi ty e dopo daremo i vari link spiegheremo come raggiungerci eccetera questo perché perché noi vogliamo sempre mostrare i nostri risultati ma ancora prima quelli dei nostri studenti perché se noi insegniamo qualsiasi cosa è giusto far vedere i frutti che produce che producono i nostri insegnamenti quindi se i nostri studenti ottengono dei risultati vuol dire quello che insegniamo è valido quindi questa è una cosa molto importante comunque sono belle cifre ecco diciamo che quello che cerchiamo di fare noi pubblicando appunto le mete di guadagno ai nostri studenti è quello che noi pensiamo sia più il più trasparente possibile noi a fine di ogni mese nel gruppo esortiamo tutti i nostri studenti a pubblicare le dashboard dei propri guadagni quindi nel momento in cui loro pubblicano le dashboard noi chiaramente censuriamo i vari nomi e le pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook facendo la media quindi questo è quello che noi troviamo sia più trasparente possibile poi non è facile far fare questa cosa alle persone conoscere i propri guadagni su Facebook non è una cosa che a tutti riesce facile specialmente in Italia specialmente in Italia che mostrare i propri guadagni non è mai una cosa bella comunque presa bene beh possiamo dire innanzitutto però che siamo orgogliosamente i detentori di un corso di self publishing che in Europa hanno la media più alta di guadagno per studente assolutamente quello sì perché appunto noi facciamo sempre vedere sì i fuori classi come appunto hai sottolineato te che però è importante far vedere i guadagni anche di quelli che effettivamente fanno cifre incredibili altissime perché danno spunto a tutti gli altri quindi fanno vedere che è possibile fare un certo tipo di entrate avere un certo tipo di entrate però mostrare appunto in piena trasparenza le medie di ogni studente anche chi magari ha pubblicato solo per un mese quindi che ha appena iniziato a pubblicare è molto importante perché dà lo sprono a tutti certo è verissimo avete detto un sacco di cose interessanti e so che poi gli ascoltatori me lo chiedono perché io ho una parte di ascoltatori che è sicuramente un po' nerd sul fatto fiscale così mi fanno sempre un sacco di domande nei commenti delle puntate serve la partita IVA e soprattutto visto che ho visto un po' di video che avete fatto ultimamente serve un'azienda all'estero? allora non serve alcun tipo di partita IVA e non serve alcun tipo di azienda estera in quanto i guadagni che andiamo a generare sono derivati dal diritto d'autore in quanto noi andiamo a comprare i diritti di pubblicazione di questo libro e poi lo pubblichiamo appunto su Amazon vanno semplicemente dichiarati nel 730 nel modello unico alla voce redditi diversi però per questo poi vi rimando a un al vostro commercialista perché appunto non è il nostro campo e non vorremmo dire castronerie l'unica cosa che vi posso dire in totale tranquillità che non serve alcun tipo di partita IVA o appunto azienda estera servirebbe perfetto se fossimo rivenditori se noi fossimo rivenditori di libri allora in quel caso sì ma noi figuriamo proprio come come autori perché noi acquistiamo il diritto d'autore come se avessimo scritto noi tutti i libri quindi questa è proprio la cosa che fa cambiare ad esempio noi rispetto a uno che fa FBA su Amazon visto che prima parlavamo anche di FBA certo io ho in mente che qui ci sono un sacco di marketer che ascoltano questo podcast voi pensate che un marketer che sopra questa attività ci fa anche della promozione con le skill che ha SEO a Facebook ads whatever possa essere un plus oppure non è necessario allora diciamo che per quanto riguarda il lato advertising Amazon mette a disposizione una piattaforma appunto Amazon advertising solo su Amazon non su Odebol quindi non possiamo sponsorizzare gli audiolibri possiamo sponsorizzare i libri per ora possiamo sponsorizzare appunto ebook e libri cartacei se lo vogliamo non è una cosa obbligatoria e è abbastanza semplice come piattaforma nel senso non c'è bisogno di imparare Facebook ads piuttosto che Google ads piuttosto che SEO Sam tutte queste cose ma è molto semplice ed è molto efficace perché andiamo a fare a sponsorizzare i nostri prodotti direttamente su Amazon dove la gente arriva già in target perché noi andiamo a biddare per una keyword esempio ti ho fatto l'esempio di Keto Diet prima noi andiamo a biddare per Diet nel momento in cui la persona va su Amazon e scrive Diet si è già profilata da sola perché è già una persona interessata nella dieta ma non solo nella dieta perché magari è interessata nella dieta ma vuole poi avere non so le pillole che la fanno di immagrire più velocemente non solo nella dieta ma un libro di dieta su Amazon quindi se tu rimetti il tuo prodotto che parla appunto di una dieta davanti risulta molto efficace come metodo di promozione quindi io direi che tutto quello che esula dal ecosistema Amazon lo lasciamo stare e Amazon ci dà tutti i mezzi per sponsorizzare i nostri libri piuttosto che per vendere i nostri libri ah perfetto sentite abbiamo parlato tanto del corso prima di salutarci raccontarci dove vi possono trovare e dove magari possono imparare i primi rudimenti allora sicuramente ci possono trovare su Facebook alla pagina TIE quindi T-Y-E su Instagram dove siamo molto più attivi specialmente con gli stories ci piace far vedere un po' i Beyond the Sins eccetera ci divertiamo molto su Instagram sempre alla pagina T-Y-E trattino basso 2 ah sì una cosa del genere sì 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 YouTube sempre T-Y-E su YouTube abbiamo un po' di video YouTube lo curiamo un po' meno a dire la verità le cose principali sono Facebook e Instagram e nel caso in cui vogliono appunto maggiori informazioni qualsiasi cosa ci possono scrivere tranquillamente su Facebook e rispondiamo nell'arco della giornata in genere ma voi avete anche un corso gratuito sì esatto la cosa che infatti potrebbe interessare a molti è un mini corso gratuito nella durata più o meno di un'ora e mezza poco più poco meno che appunto andrà a spiegare molto più nel dettaglio tutto ciò che facciamo come si fanno alcuni passaggi l'ottica del tutto facciamo un po' di esempi pratici facciamo esatto quindi sicuramente per chi ascolterà questo podcast poi sarà molto utile andare a vedere il corso gratuito che abbiamo preparato e penso che lo potranno trovare ad un link che vedremo poi come darlo magari lo daremo a te no lo metto io nei commenti dell'episodio e gli ascoltatori sanno già come andarlo a trovare perfetto ottimo molto bene comunque ci possono anche scrivere tranquillamente su Facebook quindi mandiamo il link del mini corso gratuito senza problemi esatto perfetto Alberto Stefano grazie perché ci avete raccontato un sacco di cose belle bene siamo molto contenti che sia stato interessante ci è piaciuto molto anche a noi buona esperienza anche per noi assolutamente e salutiamo tutti gli ascoltatori allora grazie grazie davvero ciao bene oggi abbiamo scoperto il self publishing tutti gli appunti e il link al corso gratuito che ci hanno offerto Stefano e Alberto vi aspettano al solito posto non c'è nulla da inventarsi sempre su merita.biz barra 217 episodio 217 217 vi confido che nel sentirli parlare a me veniva voglia proprio di provare da subito specialmente per la questione legata all'audio ora non so cosa farò perché ve lo dico così di getto ma se deciderò di fare un test condividerò tutti i risultati sul canale Telegram quindi telegram.me barra Meritabiz ripeto telegram.me Milano Empoli barra Meritabiz iniziate a seguire subito il canale così non vi perdete il caso di studio quando arriverà bene è davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Meritabusiness Podcast ciao ciao